Buona giornata e benvenuti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 12 di aprile. Siamo in diretta alle 7.30 e questo è il consueto appuntamento con la lettura dei giornali. Abbiamo il Corriere Adriatico e il resto del Carlino che tra poco sfoglieremo con il nostro screen e sono le edizioni della provincia di Piesel Urbino. Andiamo con ordine, vediamo il Santo di oggi. Oggi la Chiesa ricorda San Giuseppe Moscati. Il sole è sorto alle 6.29 e tramonterà alle 19.48 minuti. Andiamo subito a vedere il tempo che farà per la giornata di Pasqua, domenica 16. Guardate il cielo su tutta la regione Marche, sarà un cielo con pioggia soprattutto al mattino, poi migliora nel corso del pomeriggio, torna a peggiorare poi durante la serata e questa è la previsione per la serata, la nottata di Pasqua. Questa è la previsione invece per il giorno di Pasquetta. Il giorno di Pasquetta, vedete, è completamente diverso. Il tempo con sole sia al mattino che al pomeriggio, così come la sera e la nottata. Tutto da confermare ancora nel dettaglio, ma insomma queste sono le previsioni per la giornata di Pasqua e Pasquetta. Ad oggi invece, mercoledì 12, queste sono le previsioni, con un po' di foschie, vedete, ancora lungo i fondovalle. Poi con l'aumento della temperatura si dissolveranno, c'è qualche nuvoletta qua e là per la giornata di oggi. Per domani invece avremo domani, dopodomani, fino a sabato, giorni di sole. Queste le previsioni da trebimeteo.it. Andiamo adesso invece sui giornali e partiamo dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano. Aeroporto Belli a muso duro, irregolarità e intimidazioni. Al via l'indagine consigliare, la testimonianza dell'ex amministratore unico. È stata soprattutto questa, questa testimonianza dell'ex amministratore unico Giuseppe Belli a sollevare il coperchio sul calderone dell'aeroporto. Ieri a partire dalle 19 di fronte alla commissione di indagini istituita dal Consiglio Comunale per far luce sulla gestione dell'impianto da parte della società Fano Fortuna dopo che i bilanci della stessa sono andati in rosso e sono emerse situazioni dubbie come quelle dei contratti stabiliti con Eagle Aviation Academy partecipata da una società fiduciaria di diritto lituano. Questa è la pagina di Fano. Poi la seconda, quella che riguarda l'allarme processionarie. È tardi per intervenire. Il Comune di Fano elimina i nidi e i pini neri ma ora si deve aspettare che gli insetti muoiano. In questi giorni le larve cadute a terra sono pericolose per i bambini e anche per gli animali, per i cani soprattutto. Ciclo vitale è di un giorno. Sotto invece la notizia dell'Angelo Custode in trasferta durante i lavori l'opera del Guercino data in prestito fino al 4 giugno. Si ristruttura la Pinacoteca dunque ha mosso le sue ali l'Angelo Custode e ha preso il volo per Palazzo Farnese di Piacenza. La pagina della Valle del Cesano. I bagnini temono un calo dei turisti e chiedono più cura. Di Marotta appello dell'Associazione di Categoria per la riqualificazione del lungomare. occorre una pista ciclabile. Siamo dubbiosi sull'eliminazione dei parcheggi. Bocconi abbandonati in strada. Siamo a Mondolfo ed è grado o avvelenamento. Lo dovranno stabilire i carabinieri che stanno vagliando questa segnalazione. Per il cibo trovato in via Fratelli Rosselli e Largo Neviera. Trovate almeno 10 pezzi di formaggio, carne e biscotti. Paura per cani e gatti. Ora ci sono le analisi. Voragine invece. La voragine di Orciano Tagliolini, il presidente della provincia, questa sera annuncerà la data dei lavori. Lo farà alle 20.30 nella sala consigliare Il Castagno, nel municipio di Orciano. Sarà lui a far conoscere ai partecipanti la data ufficiale dell'inizio dei lavori per il ripristino della voragine. Sulla pagina di Senigallia si parla invece di quel gesto sconsiderato, folle, di quel ragazzino che ha tentato la sorte, ha sfidato la sorte, mettendo in paglio la propria vita. La foto è quella di ieri, la vedete, la riconoscerete senz'altro. Se avete seguito la rassegna ho comperato chiaramente il giornale. quel ragazzino, quella nuova moda di mettersi un sacchetto di plastica in testa e quindi senza vedere, attraversare la strada. C'è anche un video, un video disponibile sul sito del Corriere Adriatico e oggi la notizia è che la polizia sta cercando, perché da giorni monitorava questa via dove avverrebbero questi giochi, chiamiamoli così, allucinanti, via Capanna e nei dintorni, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Ebbene, sulle tracce di questo incappucciato c'è la polizia, sotto gli occhi degli amici, domenica, ha attraversato la strada con un sacchetto di carta, non è di plastica, è un sacchetto di carta in testa. Il racconto di un testimone dice che non sembrava fosse molto in sé, però non era ubriaco, questa è la testimonianza di uno degli automobilisti. Poi, sempre da Senigallia, a casa in dono agli extracomunitari, la polizia scopre alloggi concessi dai proprietari incomodati d'uso agli inquilini stranieri. In un monolocale sono stati scovati 12 residenti, nel mirino circa 100 persone, tra loro 35 fantasmi, senza identità. Da Pesaro, invece, il calendario dei principali eventi sportivi nei prossimi mesi. Ce ne sono davvero tanti. La città dello sport, dei 100 eventi, è un assist per il turismo. Certamente il Comune presenta il cronoprogramma insieme al brand, quindi al marchio, al logo, e alla campagna di comunicazione. Spiccano in agenda la World League di Volley, di pallavolo, il campionato del mondo di ginnastica ritmica. C'è il Corriere Adriatico, pubblica tutti gli eventi da aprile, praticamente fino a settembre. Ora, l'altra pagina è quella che invece indica Pesaro come indica Pesaro che vuole diventare la capitale dei giovani. Quindi non solo dello sport, non solo della musica, non solo dei motori, ma vuole diventare anche la capitale dei giovani. E si candida per partecipare al bando ANCI per il 2018, coinvolto i centri e strumenti dedicati ai ragazzi nell'elaborare progetti innovativi. Anche qui, sulla pagina di Pesaro, il Comune, che ha una richiesta da anni praticamente ogni tre giorni, dalle cadute per le buche alle gomme forate, molteplici sono le cause intentate contro l'amministrazione pesarese. Un cittadino ha citato per satte il Comune perché è stato colpito da una pigna in testa. E l'istruttore è ancora in corso. Fate chiudere invece quel self-service a Luci Rosse, in via Branche, la protesta dei commercianti in Comune, riportiamo la qualità in centro storico. Sotto, guardate questa fotografia, la foto è finita sui social network, crolla in mutande davanti alla scuola. Un singolare episodio al Santa Marta di Pesaro, la polizia fa allontanare l'uomo. E poi, anche qua, come vedete sul Corriere Adriatico di Pesaro, bimbi dal medico e cani dai veterinari, processionaria, è ora di darci un taglio, interventi nei quartieri per eliminare i nidi dai pini. L'ASPES farà partire un censimento in autunno. Però attenzione, su questo vale la pena soffermarsi un attimo, perché anche i privati che sono in possesso di un pino nel proprio giardino hanno l'obbligo di adottare misure di contrasto alle processionarie. Dunque, attenzione, perché se vi vengono a controllare potreste incappare in sanzioni amministrative. La passione, siamo nella settimana santa, questa è la settimana santa, dunque venerdì la passione di Cristo, la passione si fa in quattro, venerdì santo è tradizione. E qui nella fotografia, nelle due fotografie ci sono quella della turba di Cantiano e la passio di Serravalle di Carda. Rappresentazioni storiche poi anche a Cagli, Saltara e come dicevo appunto a Serravalle. Adesso la pagina di Urbino, poi passiamo al resto del Carlino. Da Urbino conosciamoci meglio, è Gambini, il sindaco, che dunque torna in strada per incontrare i cittadini. Riparte la campagna di ascolto da parte dell'amministrazione. Dice il consigliere delegato Sirotti, l'intento è dimostrare vicinanza tra il comune e i suoi abitanti. Andiamo sul resto del Carlino. Questa è la pagina di Fano. La città dei bambini è legge, Minardi plaude ma è polemica, pochi soldi e tutti per Fano. L'opposizione in regione parla di norma ad hoc. L'idea non è finanziare progetti, quanto aumentare la sensibilità verso i piccoli. E gli studenti del Connecticut accolti in Consiglio Comunale a Fano, 18 studenti americani provenienti dal Connecticut, appunto che fino a venerdì saranno ospiti dei loro gemelli fanesi e sono stati accolti dall'assessore delle politiche giovanili Caterina del Bianco. Commissione aeroporto, Santorelli vuole la sordina ma belli fa scintille. Il primo chiede porte chiuse, l'altro invece spara a zero. La prossima ad essere ascoltata sarà Rita Benini. Ferri vuole invece l'avvocato. Qui invece le immagini, il fotogramma dei prelievi degli uomini della capetineria, dei tecnici dell'ARPAM che hanno ieri prelevato dei campioni di acqua dal canale Albani. Canale Albani dove a un certo punto, l'abbiamo fatto vedere anche nel nostro telegiornale, ieri sera sono apparse dei pezzettini di schiuma, della schiuma che per circa un'ora ha colorato tutta questa superficie del canale e quindi qualcuno ha segnalato questa cosa alle forze dell'ordine. Poi anche qui la cronaca si ribalta col furgone paura per un anziano a Mondavio. Tutti i dettagli sulla pagina del Coriadri e del resto del canale di oggi. La fortuna fa 90, anzi 100, sempre dalla pagina di Fano, più abbonati e spettatori, teatro, numeri record per la stagione di prosa. Dunque 100 abbonamenti in più e un centinaio di ingressi omaggio in meno. Chiuderà con circa 10.000 spettatori paganti Fano Teatro, la stagione di prosa della Fondazione Teatro da Fortuna realizzata in collaborazione con AMAT. Quest'anno gli abbonamenti sono passati da 687 a 780 gli spettatori esclusi quelli del prezzo che non compaiono ancora nella stima. Insomma, quindi ci sono buoni numeri. Nuova Aset Spa, via alle nomine, Reginelli verso la Presidenza dopo la fusione. Ecco tutti i nomi di quelli in corsa. Corsa, nel CDA, composto da cinque consiglieri, dovrebbe sedere in qualità di Presidente appunto l'Avvocato Paolo Reginelli e voluto dal Sindaco Massimo Seri. Poi ci sono tutti gli altri nomi in Lizza. L'ultima pagina, eccola qua. Costretta a subire un matrimonio combinato, siamo su Pesaro primo piano, finisce in balia di un ubriacone, fuga in pigiama. È una quindicenne tunisina che scompare da casa per le botte che riceveva dal padre. Sempre più donne islamiche di Pesaro si rivolgono alla polizia per denunciare i mariti. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo stasera alle 20.30 con il nostro telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.